Tutti quelli che sostengono Rosi la raggiungano in misteri, prego. Ah, caspita, quasi tutta la casa, devo dire, sarà contenta Rosi. Vanno tutti. Rosi, un plebiscito! Baby! Accidenti, questa non ce l'aspettavamo. Bella sorpresa, sono rimasti in quattro gatti, veramente. Allora, andiamo da Gressia. Chi sostiene Gressia la raggiunga nel cortile del Tugurio. Heidi e Vittorio, hai capito? Questo è interessante comunque, vedere questi sodalizi, queste alleanze. Vai, chi bello! Come mai, Heidi, hai scelto a Gressia? Gressia mi è stata molto, molto vicina a questi giorni. E Vittorio, perché hai scelto lei? No, io sapevo che molte persone sarebbero state con Rosi, e allora ho deciso di stare con Gressia. Io amo anche Rosi, però Gressia a questi giorni è stata veramente vicina. Bene, allora, ritorniamo in salone. Sono rimasti in due. Allora, vabbè, Giuseppe, io me l'aspettavo, perché se non va lui da Beatrice, chi ci deve andare? Ci mancherebbe. Fior Daliso. Intanto raggiungete Beatrice, così lo commentiamo con lei. Grazie a tutti.